Gli agenti della volante che li hanno intercettati in pieno centro a Vittoria hanno trovato loro addosso marijuana e un telefonino rubato qualche giorno prima. E' finita così con una denuncia alla prefettura la giornata di tre giovani vittoriesi, due dei quali già note alle forze dell'ordine, nel corso dei normali controlli in città gli agenti hanno infatti intercettato e fermato i tre. E dopo la perquisizione, cui sono stati sottoposti, è stato rinvenuto un grammo di marijuana, mentre sotto il sedile posteriore della loro auto gli agenti hanno trovato altri 15 grammi della stessa sostanza stupefacente oltre ad un cellulare con scheda telefonica. Richiesti di una spiegazione, i tre si sono trincerati dietro il silenzio affermando solamente che della marijuana facevano uso personale. Le successive indagini hanno però permesso di accertare che il telefonino era stato rubato il giorno prima da una ragazza mentre si trovava all'interno di un locale pubblico. I tre giovani, due dei quali anche minorenni, sono stati quindi segnalati alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti ma anche denunciati rispettivamente alla procura ordinaria e a quella per i minorenni per il reato di ricettazione.